I controlli delle forze dell'ordine vanno svolti con accuratezza e si devono concentrare nelle aree urbane più sensibili potenzialmente interessate da fenomeni di assemblamento, specialmente in corrispondenza delle giornate festive e prefestive. Lo chiede il Viminale in una circolare inviata ai prefetti, che illustra le regole introdotte dall'ultimo decreto legge in vigore fino al prossimo 6 aprile. Il giro di vite è stato deciso per contrastare la diffusione del contagio e contribuire alla tenuta del sistema sanitario. Nel periodo pasquale poi serviranno controlli mirati lungo le strade di scorrimento extraurbano interessate da flussi di traffico più intensi. E ancora pattuglie posti di blocco nelle stazioni, negli aeroporti e negli snodi principali della mobilità urbana. I controlli di polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani saranno intensificati anche nella nostra regione. Il 3, 4 e 5 aprile tutta Italia si tingerà di rosso e l'autocertificazione sarà sempre necessaria. Gli spostamenti anche all'interno del proprio comune saranno consentiti solo per motivi di salute, lavoro o necessità, dunque solo per le comprovate esigenze. Ma è stata conservata la deroga che era in vigore durante le feste di Natale. Una sola volta al giorno, dalle 5 alle 22, possono muoversi due adulti portando con sé figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi. Potranno andare verso una sola abitazione privata, far visita ad amici o parenti, purché all'interno della regione. In ogni caso, sia in zona arancione che in quella rossa, per coloro che viaggiano in auto con persone non conviventi, al fine di garantire il distanziamento, è ammessa la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri, al massimo, per ogni fila di sedili successiva. Tutti gli occupanti della vettura devono necessariamente indossare la mascherina. Controlli serrati dalla costa all'introterra sono previsti anche in provincia di Pesero Urbino. Le strade maggiormente attenzionate saranno la statale adriatica, la 73 bis di Boccatrabaria e la strada provinciale 424 cesanense. I cittadini che si spostano senza un giustificato motivo rischiano una multa da 400 a 1.000 euro. Se pagano però entro 5 giorni, l'importo della sanzione verrà ridotto del 30%. Scatta la denuncia invece se nell'autocertificazione si riportano dichiarazioni non vere perché la pattuglia può compiere ogni verifica. Un esempio, vengo denunciato se scrivo nel modulo che sto andando a lavorare e poi risulta che quel giorno sono in ferie. Il reato contestato sarà quello di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale. Il reato contestato sarà quello di un'autocertificazione a pubblico ufficiale.